Oggi è una sfilza di video quindi aspettatevene anche altri signori Questo oggi è un nuovissimo video dedicato a un pacchetto davvero interessantissimo Proprio adesso uscito su Fortnite ragazzi Esattamente nel Playstation Store Ovviamente è una promozione che è valida solo per gli utenti di PS Plus Quindi signori andiamo subito a vederlo bene nel dettaglio Andando ovviamente nel Playstation Store In questo caso io sono da PC perché la Playstation 5 ce l'ho di là da mia cugina E in questo momento non riesco ad accederci Ma in ogni caso il Playstation Store è lo stesso sia su PC che su Play In ogni caso raga guardate se cerchiamo Fortnite che cosa appare Innanzitutto tutti i vari bando appare Fortnite gratis E il bundle in questione è proprio questo qui signori Il pacchetto celebrativo Playstation Plus 0,0 euro meno 100% di sconto per appunto i possessori del Playstation Plus Non ci danno molte informazioni Ci danno soltanto queste piccole notizie Soltanto dicendoci come potete vedere qua Che cosa include il pacchettozzo Cioè il piccole asce sinaptiche La copertuna frenesi a cobalto L'emoji ultimo round e uno standardo Tutti questi oggetti sono appunto estetici Non hanno effetto sul gioco eccetera 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 Quindi signori abbiamo soltanto queste informazioni Vabbete adesso andiamo a vedere anche un video Diciamo illustrativo di questi oggetti in game E dunque signori eccolo qua Il pacchettozzo bislacchissimo in game La copertura Il piccozzo davvero fighissimo raga Abbiamo poi ovviamente anche l'emotico Last round cioè ultimo round E infine un'icona Questa qua banner davvero bellissima E particolare Quindi raga un nuovo pacchetto gratuito Quindi signori approfittatele Teoricamente c'è scritto che è solo per la Playstation 5 Difatti se notiamo qua come potete vedere C'è scritto soltanto PS5 Esattamente dov'è qua Eccolo qua vedete che c'è scritto soltanto PS5 Però raga provate a vedere se c'è anche per PS4 In teoria dovrebbe esserci anche per PS4 Non credo facciano un pacchetto celebrativo solo per la PS5 Non lo so ragazzi Provate a vedere e ditemi qui sotto nei commenti In ogni caso appunto il battle su PS5 è al 110% uscito Sicuramente ufficialmente ragazzi Quindi mi raccomando Un bel like on Questo è al battle piccone Copertura davvero interessantissima Vabbè i moti con l'esternato Nulla di così incredibile Quindi signori io vi abbandono Vi lascio con una bella sigla finale E niente signori ci vediamo a brevissimo Con un nuovissimo video Quindi tra qualche oretta raga Con il video del livellamento su Fortnite In questa stagione 6 Come livellare veloce ragazzi Ho trovato dei metodi davvero assurdi Quindi ragazzi un bacione grandissimo Con Ciccatore Lucius A tra pochissimo Bella signori Ho sentito dire in giro Che tu ancora non mi stai supportando come creatore? Che cosa? Bene Vai subito nel negozio oggetti di Fortnite Clicca sulla voce in passo a destra Supporta un creatore Ed inserisci il codice Lucius Maiuscolo o minuscolo che sia Non cambia nulla Cliccate su accetta E mi raccomando Taggatemi nelle vostre storie di Instagram Mentre shoppate con il mio codice Che vi riposterò a tutti Dal primo all'ultimo Ma mi raccomando Tenete il profilo pubblico Altrimenti le vostre stories Non mi arriveranno Bella ragazzuoli Che vi riposterò a tutti 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 Grazie a tutti